Buonasera, come mai qui a Lido a Venezia? Come? Come mai qui al festival? Sono venuta per il premio Starlight che è stato organizzato benissimo, è stato premiato Garrone, c'era la Wirtmüller e tanti personaggi, molto molto Miriam Catania, tanti personaggi. Ma come mai tu non inquadri questa bella ragazza e inquadri tutti tranne lei che fa le domande? Eh ho capito, però non valorizzi la tua inviata, così non si fa... Più che altro la bella signora. Ma andiamo avanti. No, mi ha detto tre ore fa, intervistiamo questa bella signora. Allora, come mai qui al festival? Sono qui al festival per il premio Starlight, ero ospite, c'erano dei personaggi favolosi, Garrone, Lovermüller e Miriam Catania, organizzato meravigliosamente da Francesca Rettondini, che ha le mie spalle. Di Le Guet, è vero, è di là, guardate, è proprio lei. Se vuoi, continuo io. Allora, come mai sei qui a Venezia? Per vedere te Chiara Sani, assolutamente sì. È come un virus, no? Per me è un attacco, è un attacco cardiaco. Hai venuto a vedere me? Assolutamente sì, non potevo mancare. Ho visto tutti i miei film. Ho visto tutti i miei film. Ho visto tutti i miei film, tutto. Abbiamo lavorato insieme, penso. Mi pare, perché lui è un famoso regista televisivo, favoloso. Mi pare che abbiamo lavorato insieme. Mi pare che mi disturbavo un pochino, vero? Poco no, molto, molto sì. Caro Gianni, ciao Gianni, ciao. A te. Sentiamo da Francesca, andiamo, venite tutti quanti. Ma cara Francesca, come mai sei qui a Venezia? C'ho una foto tua, piccola. Come mai? Come mai? Scusi, no. Come mai sei qui a Venezia? Allora, io sono qui a Venezia perché volevo dare un premio a Chiara Sani, e allora mi sono inventata un premio per lei. E che cosa ho vinto, scusami, perché non ho ricevuto nulla? Un premio per la non migliore attrice dell'anno. Anche noi, tranquilli. Vogliamo dire qualcosa? Peccato che al cameraman non gliene può fregare. Il cameraman però non è mica tanto normale, vero Franci? Quello che stiamo dicendo noi, perché sta dialogando con altri. Hai visto come è vestito? Veramente sì. Cosa raccapricciante? Capelli, l'hai visti i capelli. Ma i capelli, no, ti prego, non li avevo visti. Il cameraman ha dei capelli raccapriccianti. Terrimo. Va bene, e quindi comunque è bello essere qui grande. Viste che ci hanno lasciato questo spazio? Sì. Possiamo cantare una canzone, non so. Vogliamo dire una briselletta? Sì, raccontane una. Allora, ci sono due pomodori che attraversano la strada. Uno passa e l'altro gli fa, attento, dove? Scusa, non posso fare questa... Ma fa ridere tantissimo. Però qua bisogna ridere da attori, quindi devi essere con una risata un po' più implosa. La risata dell'attore è... Bene, buonasera a tutti. Buonasera, buonasera, buonasera. Avrei un red card. Scusate, abbiamo un red card. Lei non può dire. Io ho un tappeto rosso in macchina. Buonasera a tutti. Esatto. Buonasera a tutti.